Gioi! Gioi! Leggi in ordine la tua stanza! Gioi! Gioi! Hai sentito? Gioi! Gioi! Leggi in ordine la tua stanza! Te l'ho detto cento volte! Otto volte! Tallina aveva i vestiti più eleganti! Gambetta aveva le più belle gambe! Pionetta aveva una cresta veramente superba! Buonanotte più scura delle altre i briganti fermarono una carrozza in cui viaggiava solo un passeggero un'orfanella di nome Tiffany però stava diventando vecchia e aveva bisogno di qualcuno che redesse una mano a mandare avanti la casa e il piccolo orto così mise un annuncio sulla piazza del paese si presentò un certo Grand'Antonio strega nonna sapeva che Grand'Antonio era uno stupidotto quindi gli parlò molto chiaramente venite, venite avanti bambini aspettate, sussurrò poco pochino non vi ricordate cosa ha detto la mamma? ah voilà, questa non è mica una strega disse Grosso Grandone non vedi com'è gentile? non vedi com'è gentile? non vedi com'è gentile? non vedi com'è gentile?